Il convegno che è stato organizzato a Soveria Mannelli oggi pomeriggio sabato 23 giugno verte è praticamente sulla gestione associata della protezione civile. L'iniziativa è partita dal gruppo NERS che è a sede qui a Soveria Mannelli e nasce come impulso dal fatto che tutti i comuni del comprensorio sono stati interessati da un progetto che è il progetto sulle aree interne che ha visto l'area del Reventino Savuto come area pilota per l'intera Calabria. Nell'ambito di questo progetto che vede coinvolti i comuni di Cicala, Carlopoli, Serra Stretta, Soveria Mannelli, Conflenti e Motto Santa Lucia sul versante catanzarese e Parenti, Panettieri, Colosimi, Bianchi, Scigliano, Carpanzano e Pedivigliano sul versante Cosentino sono complessivamente 14 comuni. Ebbene nell'ambito di questo progetto che vede coinvolti tutti i comuni su vari fronti dalla sanità ai trasporti all'istruzione vi è anche il discorso protezione civile. In modo particolare questi 14 comuni hanno sottoscritto una convenzione che quindi da qui a breve, anzi proprio stamattina 23 di giugno è stata approvata la versione definitiva finale della strategia e quindi a breve ci sarà la firma dell'accordo di programma quadro, dopodiché si procederà con l'attuazione dei progetti. Tra le varie attività che verranno svolte nell'ambito di questa area interna c'è anche la gestione associata della protezione civile, quindi tutti e 14 comuni hanno sottoscritto una convenzione con la quale si impegnano alla gestione associata. Il comune di Sovere Mannelli è stato designato quale comune capofila e quindi avrà il compito di redigere il piano di protezione civile associato. Si è quindi deciso, insieme con il NERS, di mettere in piedi il convegno di oggi che vuole essere una sorta di primo passo verso quello che sarà poi la gestione associata della protezione civile e quindi sarà un vero e proprio momento formativo, informativo che vedrà in prima fila chiaramente le amministrazioni comunali ma che chiaramente coinvolge anche le associazioni di volontariato. Noi ci auguriamo che con questa iniziativa si cominci anche a far prendere coscienza nell'ambito della popolazione, di tutta la popolazione di questi comuni che la protezione civile non è un qualcosa che afferisce solo alle amministrazioni, comunque alle autorità, ma la protezione civile è un qualcosa che ci tocca ognuno di noi in prima persona. Quindi l'auspicio è quello, siamo sicuri che a questa iniziativa ne seguiranno molte altre. Il NERS sicuramente si farà portavoce sarà in prima fila per supportare le amministrazioni e soprattutto per coordinare tutte le associazioni di volontariato del comprensorio. Grazie.